Due formazioni italiane che restano due anche nelle semifinali, erano sette anni che questo non succedeva. E stiamo vedendo il gol con cui Emilio Oddi ha portato in vantaggio la Roma ieri sul campo di Berlino Est contro la Dinamo. Ecco l'esultanza di Oddi al suo primo grosso esclua in campo internazionale. L'azione nasce da un cross di Falcao che si era allargato molto bene sulla sinistra, cosa che aveva fatto appena un minuto prima a beneficio di Bruzzo, velo splendido di Tonigno Serezo, gol in corsa da parte di Oddi. Ed eccoci al trentesimo al pareggio di Tom, situazione di calcio d'angolo battuto da Terleschi come sempre, che sul primo palo nonostante la copertura di Falcao, Tom va al pareggio. E proprio a quattro minuti dalla fine, dopo che la Roma aveva più volte sfiorato il gol del raddoppio, è colpito anche una traversa con Conti, arriva il gol del 2-1, quindi vince la Dinamo, ma la Roma è qualificata e esce da dominatrice dal campo di Berlino, nonostante il risultato stranamente sfavorevole, al contrario di tutto quello che è stato l'esito dell'incontro. Ed eccoci al gol con cui la...